Su questo argomento, argomento degli autovelox, ci sono tantissimi ricorsi. Chiedo alla regia di farci vedere questa schermata, proprio per entrare nell'aspetto tecnico-legale. Eccola qui. Abbiamo ricorsi amministrativi presso il giudice di pace. 1.500 circa le richieste presentate verso gli enti comunali. 900 circa richieste contro gli autovelox, dischi e l'H-. Avvocato, questo è il dato rifatto. I ricorsi per la maggior parte sono stati quasi tutti accolti, per il semplice motivo che le amministrazioni resistenti costituitesi in giudizio non sono riuscite a fornire la prova dell'avvenuta omologazione degli apparecchi installati. E la Cassazione ha stabilito che l'onere della prova gava sull'ente impositore. In tal caso nel Comune di Ischia, nel Comune di Nacca meno, sono stati in grado di dare questa prova. Evidentemente, anzi sicuramente, le apparecchiature di fatto non sono omologate. Anche perché la Costituzione non è avvenuta, gli enti si sono costituiti, non è che non si sono difesi, attraverso dei difensori e che non hanno potuto ovviamente documentare quello che non c'era. Quindi in effetti oggi per chiunque è possibile fare ricorso contro una multa presa per gli autovelox? Assolutamente sì. Se nei termini dei 30 giorni dalla notifica del verbale loro vogliono, possono tranquillamente a dire il giudice, ma alternativamente potrebbero fare anche un ricorso al prefetto nei 60 giorni, un ricorso amministrativo, e cercare di ottenere una pronuncia di annullamento eccependo per l'appunto la mancata omologazione degli apparecchiatori e degli autovelox. È una decisione presa alla luce dell'orientamento prevalente della Suprema Corte. Quindi se l'ente vuole fare tesoro di quello che sta accadendo, potrebbe tranquillamente in autotutela annullare la maggior parte dei verbali, evitando dei ricosti. È anche vero che ultimamente il giudice di pace tende a compensare le spese processuali. Quindi viene eliminata la multa? Viene annullata la multa, il verbale viene annullato, però il ricorrente o l'avvocato che si è dichiarato antistatario non viene ricompensato del lavoro svolto. Non c'è un orientamento contrastante. Cioè, gli autovelox in questo caso non sono omologati, la giuspenza è unanime, quindi non si comprende il motivo della compensazione. Quindi a mio avviso legittima i colleghi che stanno proponendo gli appelli. Ok, quindi c'è l'appello proprio per ottenere… Solamente la liquidazione delle spese processuali, in favore degli avvocati che si sono dichiarati antistatari, anche perché parliamoci che nella maggior parte dei casi questi ricorsi si fanno pro bono.